si fa un brindisi ragazzi si fa un po' che freddo aspettiamo una sigaretta si fuma lunga si tanto però muoviti anche qui si può si sta sempre a fumare grazie mille quanti bicchiere ha portato? come dicevi ma me ne manca, facciamo un nome allora vado a prendere, muoviti che una sede è sulla lingua che fa io vado a prendere un bagno e vado a prendere loro ho bene capito, qui spariscano tutti fate il resto volete un po' mi ritornare un po' questi uomini mamma mia, che curiosi comunque è stata bella questa festa di armi davvero? ci siamo dei diritti alessandro levati la maschera se va a finire qualcuno che gli ha paura la festa di armi? si affatto Alessio ma che veloce, ci ha messo 10 minuti e Emiliano non è ancora tornato? si vede vicino no, non è ancora tornato ma non è che... manca, manca è ancora tornato Emi? si? ah ecco mamma metti fuori no no, Emiliano grazie Emiliano no, non me lo riesco tanto perché sennò poi divento già brilla prima di andare a letto basta grazie meno male almeno... vediamo non era la succumeria non puoi vedere? papà c'è la tua mamma e ti chiamano da casa eh ho capito allora non ho capito ve le capite, lui si beve più pronto? eh Fabio, com'è? tutto bene? noi siamo a Cedi, si sta facendo una festa vuoi? amore mio bello qui non si beve più il lato è dato a te l'è ma cosa fai? lo fai? si, guardi guardi vado a fumare tanto il lato si aspetta il lato ok ragazzi oh io vado a fumare tanto il lato è a te l'è vai vai così meno due ma non stai via nel mercato non so cosa sta scritto ma cos'è? ma Bellino ah Bellino io da me li guarda si se lo vedessi l'ho anche visto poi ti ho fatto vedere poi io ho in relazione stasera con chi non aveva freddo c'ho la febbre o a proposito di rossetto allora me l'ha regalato uno mio rosso fuoco e il mascara quello che ho fatto per esempio è quello che resiste a dare a me non resiste mi sta calando allora potrilo presto perchè è buono quello lì no 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 scusate fammi un po' di bagno si è chiesto poi luce mi cola tutto io per esempio quando mi cola non ce l'ho ma se non ce l'ho la va subito poi mi diventa anche più occhi rossi mi ce la fusciare si voglio dire non mi sento bene stasera guarda c'ho un'asma vale mi vai attendo un po' non c'è tretta di venti se no mi potrebbero sperare è questa acqua guarda poverana è merosa non lo vedo non lo vedo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ehhhhh ragazzi ho sentito il mare aaaaaaaaaaaaaaaaah ragazzi ma per me quella lì è prela ma un'altra ha bevuto un po' troppo ma ora ho capito ma se no non si vede più la mia con la sera che c'è? che c'è? e due ma che cacchio succede? che succede? ragazzi io respiro Alessandro è già 5 minuti che ce l'ho mandato io bisogna fermarli a cercarmi un po' d'asmo di aver ridito un petter vice aspetta se non respiro più nel meno facciare tantissimo lì se fosse per lui potremmo riuscire a me a me sono camicia e hai tanti documenti che ha tutti i tigli ehi non mi ha detto? sì ma sei fermo? non ti senti guarda non vogliamo il mio coso ma non ti senti un po' male io ho un po' ho sentito un po' male oh mio mio ho sentito urlare ho sentito urlare ma ci sono tutte le storie scusa io ho sentito urlare anche a me mi sembrava però eeeh ma sai qui sperduti qua su ragazzi ma avete sentito urlare? dai una cosa però effettivamente se ci si smette un po' a pensare ma Katia dov'è? ma erano da appassimare ma come? oh ascolta qui manca Katia dal canto tutti hanno sentito urlare uno di voi due vado un po' a vedere eeeh lui non dice niente guarda mi fa venire Erdo io ho sentito urlare veramente oh ragazzi ragazzi Katia è morta come morta? si c'è una macchia al corpo venite dai no 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 io ragazzi non mi muovo di qui no no c'è una macchia no no c'è un assassino in un paese oddio oddio e allora guarda su di me ma guarda ragazza lei mi chiede di me guarda che credo no oh ragazzi ragazzi io me ne vado faccia cosa che fai io me ne vado no io vado a prendere la borsa mamma mia io vieni aspetta mi prende anche io guardi o cosa è successo io mamma mia a me se me l'avesa niente non me non me oddio oh ragazzi ha lavorato al cacernico hai visto che l'avevo detto dai ero un altru d'oro ragazzi io me ne vado io me ne vado io me ne vado vai a prendere chiedere io guadio ragazzi mi raccomando io l'avevo detto che era un'idea tutta venire qua su in questo paese al buio non ci salverà nessuno io sono preoccupata andate a vedere di Miliano e Alessandro andiamo a vedere di Miliano madonna spinare un bel oh no 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 finalmente un aldo in come piaccia un po' oh no 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 oh no